Il mio incubo era tutto la presente attorno a me, attorno a quelle sbarre. Per diversi minuti non ebbi la forza di muovermi. Restai immobile, diritto, all'impiedi con gli effetti personali in mano e cominciai a guardarmi attorno. All'improvviso mi venne di urlare e di piangere e fece entrambe le cose. Mi gettai disperato per terra singhiozzante e cominciai a gridare sono innocente, sono innocente, sono innocente.